Terra Mara, importanti anticipazioni turche, Demir tenta di impedire Elmas di uscire dalla prigione. In Turchia viene annunciata un'amnistia tra i carcerati che riguarda anche Elmas, che ha in mente solo propositi di vendetta verso Demir. Quando Demir apprende la notizia è scioccato e preoccupato perché sa che appena rilasciato Elmas andrà alla tenuta a cercare Zuleyya. Demir dà in carica ad un uomo di organizzare l'uccisione di Elmas dentro il carcere prima che sia rilasciato. Il tentativo però va a vuoto e Elmas viene salvato da un compagno di cella di nome Fekeli. Allora Demir chiama il direttore del carcere e gli ordina di aspettare il suo arrivo prima di rilasciare Elmas. Quando arriva nella prigione a Istanbul non trova il direttore ma un suo sostituto meno disposto a collaborare tanto che quando si decide Elmas è già stato rilasciato dopo aver salutato il suo amico Fekeli e avergli detto che sarebbe andato ad uccidere Demir. Ilmas nonostante sia cercato dagli uomini di Demir riesce a lasciare Istanbul e ad arrivare ad Adana e da qui alla tenuta mentre Demir avendo intuito si mette in macchina per arrivare il prima possibile alla villa. Ilmas riesce a introdursi furtivamente nella tenuta e a raggiungere la villa. Da qui inizia a cercare Zuleya che in quel momento sta mettendo alla luce il loro bambino. Vedremo questa anticipazione tra circa due settimane. Siamo alla fine della sesta puntata turca. Iscrivetevi al canale e restate sintonizzati. Grazie a tutti.